Forse ha ragione la maggior parte di voi ad essere preoccupata per la situazione politica attuale in Italia. Teme infatti che si possa davvero dare vita al peggior governo del dopoguerra. Un governo che non solo può fare gravi danni al paese ma può risultare addirittura catastrofico per milioni di italiani. Non peraltro viene già denominato Montibis. È vero avete tutte le ragioni non ci sarebbe proprio nulla da ridere però guardate anche un po' all'aspetto comico. Apro Google News ad esempio e leggo. Conte due punti vedo un buon clima a partito democratico movimento 5 stelle e poco sopra liberocotidiano.it Giuseppe Conte e Luigi Di Maio l'incontro finisce in rissa urla e grida tensioni alle stelle. Comunque cerchiamo di tornare seri ma ve lo giuro non sarà facile. Ribadisco che a mio modo di vedere la mossa di Salvini cioè staccare la spina è stata una mossa geniale, straordinaria. Anche se forse non ci voleva molto per capirla. È diventata quasi una mossa obbligata. Perché? Cerchiamo semplicemente di ragionare. Nell'ultimo video che io ho pubblicato visto il comportamento avuto da Grillo io avevo ipotizzato due alternative. O è un pazzo o è un farabuto. Con l'ultimo suo video pubblicato appunto da Grillo. E Grillo non mi ha tolto del tutto il mio dubbio. Ha ritrovato la sua vena comica. Questo bisogna riconoscerlo. Perché? Perché si è rivolto niente meno che ai giovani del PD. Dico, vabbè, sai le allucinazioni. I giovani del PD? Ma dove li vedi? Ma hai mai incontrato nella tua vita un giovane che abbia dichiarato impunemente di votare per il PD? Ma non esistono, beh, i giovani del PD. Ma non basta perché Grillo si rivolge appunto a questi fantomatici giovani del PD, questi ectoplasmi? Dicendo loro addirittura avete un'occasione storica, avete un'occasione che non si ripeterà mai più. Dico, ma qual è questa occasione, Beppe? L'occasione che non si ripeterà mai più. Quella di avere, non so, come vice premier una meba come Dario Franceschini, oppure quello di ritrovarsi come ministro una nullità come Paola De Micheli. Questa è l'occasione storica che hanno i giovani del PD. Comunque, vi avevo detto che non era facile rimanere seri, però davvero adesso faccio di tutto per davvero tornare seri, ma cerchiamo quindi di proseguire nel ragionamento. Allora, ora mi rivolgo a voi, cari ascoltatori. Conoscete per caso qualcuno che il 4 marzo dell'anno scorso ha votato Movimento 5 Stelle e che ora è favorevole ad un accordo di governo con il PD? No, perché se conoscete qualcuno del genere, segnalatemi, perché è un caso più unico che raro. E allora, se proprio vogliamo abbondare, ma proprio tanto, diciamo che dieci elettori del Movimento 5 Stelle su cento che lo avevano votato, sono favorevoli all'accordo con il PD. E allora, la votazione sulla piattaforma Rousseau, se fosse una cosa seria, non dovrebbe discostarsi molto da questa percentuale, cioè 90% no, 10% sì. E allora cosa si fa? Non si fa il governo e si va al voto? Oppure viene fatto l'ennesimo volta faccia, si dice che l'esito della votazione di Rousseau non conta, è solo un'indicazione, non è determinante. Oppure, peggio ancora, falsificano totalmente i dati provenienti dagli iscritti e fanno risultare invece in maggioranza i sì. Perché vedete, tuttora sul Movimento 5 Stelle mi rimangono dei dubbi atroci. È un partito certamente favorevole all'establishment che però ha nascosto la sua vera natura, ma non l'ha nascosta la sua vera natura solo agli elettori, ma anche agli eletti ed addirittura anche al capo politico. Perché era il 18 luglio, sia poco più di un mese fa, e Luigi Di Maio postava un video durissimo contro il PD. Il PD veniva descritto da Di Maio non solo come il partito di Bibiano, ma il partito che toglieva con l'elettroshock i bambini alle loro famiglie per venderseli. Avete mai sentito un'accusa più infamante di questa? Io direi di no. Quindi che significato a se il capo politico di quel partito, ripeto, il capo politico, non un semplice simpatizzante, non un eletto, ma il capo politico nel momento in cui fa un'affermazione simile, chiaramente non ha il minimo dubbio che il suo partito si troverà mai a fare una benché minima alleanza, figuriamoci un governo con quest'altro partito. Allora se Di Maio, ossia il capo politico del Movimento 5 Stelle, poco più di un mese fa, se a lui non passava nemmeno per l'anticamera del cervello, che ci fosse la minima possibilità in futuro, ma in futuro anche abbastanza prossimo, che appunto lui potesse fare con questo partito, con il PD, un accordo, addirittura un accordo di governo, beh, ma allora chiediamocelo, ma questo, ma che partito è? E questa è la domanda che dobbiamo porci, e non è semplice dare una risposta, perché certo anche il PD un mese fa diceva che con i 5 Stelle non avrebbe mai fatto un governo, ma il PD, dal PD ce lo aspettiamo, questi hanno fatto di tutto, questi hanno distrutto il nostro paese, quindi dal PD ci aspettiamo di tutto, ma dal Movimento 5 Stelle no, e quindi non ci resta che attendere Rousseau insomma. Ma non possiamo terminare il video odierno, eh beh, senza parlare di una notizia splendida, cambio discorso ma è veramente una notizia splendida, stupenda, che naturalmente per trovarla dovete scendere molto nella pagina di Google News, si tratta delle elezioni in Germania. In Germania, come sapete, il paese federale si è votato in due stati come la Sassonia e il Brandeburgo. Beh, la Sassonia, tanto per intenderci, è lo stato di Dresda e Lipsia, mentre il Brandeburgo è lo stato di Berlino. Ebbene, la Sassonia è uno stato da sempre dominato dalla Sede U, cioè dal partito della Merkel, mentre il Brandeburgo dall'Espede, cioè dai socialdemocratici. Ebbene, alle ultime elezioni in Sassonia, cioè nel 2014, la Sede U, cioè il partito della Merkel, aveva preso il 40% dei voti. Oggi è scesa al 32%, mentre Alternative for Deutschland, ossia il partito euroscetico alleato con la Lega di Salvini, è passato, datemi bene a sentire, dal 9,8% del 2014 al 27,5% di oggi, attriplicando i voti e guadagnando quasi 18 punti percentuali. Alternative for Deutschland ha infatti guadagnato voti non solo sulla Sede U, ma anche sull'Espede e sulla Linde, il partito più a sinistra, che in queste elezioni ha perso l'8,5%. In Brandeburgo i tre partiti storici, cioè l'Espede, la Sede U e la Linde, hanno perso rispettivamente il 5,7%, il 7,4% e il 7,9%. E Alternative for Deutschland è arrivata al 23,5%, raddoppiando i voti, un risultato che in uno Stato da sempre di sinistra è un risultato che potrei definire storico. Insomma, cosa ci dicono queste elezioni? Beh, ci dicono che forse per uscire dall'Euro per l'Italia non occorrerà forse fare grandi battaglie in Europa. Magari basterà attendere e sarà la Germania ad andarsene e a disgregare così tutta l'Eurozona. Auguriamoci che tutto ciò avvenga molto presto.